Buongiorno a tutti, buon sabato 9 settembre, ormai manca una settimana e poi sarà derby di Milano che si sente nell'aria, anche se Rajana Ingolana ha detto che non ci sono paragoni per come si vive nella capitale, però assicuriamo che anche qui a Milano si sente parecchio, soprattutto se è un derby tra le prime due in classifica come Inter e Milan e si giocano veramente tanto, non solo la supremazia cittadina ma anche qualcosa di importante verso la seconda stella senza dimenticare Napoli e Juventus, con Roma e Lazio anche come possibili outsider in quella che sarà una lunga corsa tappe con tante difficoltà, con tante squadre che vogliono e possono dire la loro per quanto riguarda lo scudetto e sappiamo che ci saranno tantissime variabili in gioco come sottolinea il Teccaldo più famoso di Youtube in arrivo, continuate a iscrivervi al canale, l'obiettivo è arrivare per Natale abbiamo detto a 50k, molto difficile e complicato però con l'aiuto di tutti voi si può fare quindi iscrivetevi al canale, poi un like al video è d'obbligo così come la condivisione per far aumentare ancora di più dei numeri pazzeschi che solo grazie al vostro sostegno quotidiano, alla vostra presenza che non posso quindi che ringraziarvi, giornata fondamentale per l'Italia, abbiamo messo una maglia azzurra per che sia di buon auspicio per l'inizio di questa nuova era Spalletti con tre nerazzurri dal primo minuto contro la Macedonia, curioso di vedere bastoni difensore centrale, una difesa a quattro così come anche Di Marco esterno a sinistra del 4-3-3 di Spalletti che è differente da come interpretava il calcio Mancini però può essere sicuramente un'alternativa e un ulteriore fattore di crescita per i giocatori, poi c'è un Barella che ormai si guadagna le copertine, le prime pagine sempre più sotto i riflettori, sempre più leader anche dell'Italia che cresce e continua a farlo inanellando e mettendo insieme esperienze su esperienze, ha rifiutato Newcastle e Liverpool durante l'estate, si sente sempre di più coinvolto e sempre più interista è uno di quelli che tra l'altro ci è rimasto peggio per le modalità dell'addio di quel signore là che però fa parte del passato adesso bisogna cercare di dare una risposta a un movimento che è cresciuto molto quello italiano come hanno confermato le semifinali di Champions raggiunte da Inter e Milan la finale della Roma e quella della Fiorentina in Europa e Conference League adesso bisogna tornare a crescere anche dal punto di vista della nazionale dopo aver fallito in modo inimmaginabile, incredibile la qualificazione agli ultimi mondiali da campioni d'Europa anche qui speriamo che cambino un po' le regole e ci sia anche un po' più di l'abbiamo detto, chi vince la Coppa America, chi vince l'Europeo non può star fuori da una competizione così importante come il mondiale è vero anche che non puoi fallire la qualificazione non riuscendo a battere Svizzera, Bulgaria e Macedonia con tutto il rispetto ma bisogna crescere e continuare a farlo cercare di sviluppare di più e maggiormente le rappresentative inferiori dall'Under 21 all'Under 19 che ha vinto il titolo di campione d'Europa tra l'altro far crescere meglio i giovani e vedo anche una buona idea visti anche i risultati della Juventus che sta facendo crescere un sacco di giocatori quasi pronti per la Serie A, quasi pronti per essere anche decisivi nella massima serie anche l'Atalanta ha adesso cominciato la sua avventura con l'Under 23 e credo che possa essere una buona soluzione anche per un settore giovanile come quello dell'Inter che sforna talenti in serie e che con un Under 23, ditemi anche voi cosa ne pensate ci sarebbe la possibilità di crescere ulteriormente spesso si fa una fatica incredibile un giro in prestito nelle serie inferiori tenendo l'Inter come casa madre e una squadra che sia uno step ulteriore a quello della primavera potrebbe secondo me essere un ulteriore fattore di crescita un ulteriore banco di prova per fare un'esperienza superiore a quella della primavera rimanendo con la maglia nera azzurra e facendo esperienze su esperienze come abbiamo visto i vari Sule, Iling Junior, Miretti, Fagioli essere pronti più pronti per anche dare delle alternative alla prima squadra da analizzare, da valutare per il futuro può sicuramente essere un'idea già il fatto che l'Atalanta abbia iniziato questa avventura altro settore giovanile tra i più importanti è secondo me un'ulteriore conferma che può essere quella la strada giusta per tutti i giovani che l'Inter produce, fa crescere e che sono sempre tra i migliori nelle loro diciamo rappresentative giovanili e che però poi c'è questo scoglio della gavetta che non tutti riescono a superare quindi in bocca al lupo a Spalletti all'Italia a Barella Bastoni Di Marco sperando che la comitiva azzurra continui a crescere e aumentare i suoi diciamo rappresentanti le buone notizie arrivano da Piano Gentile dove comunque Inzaghi ha lavorato con quegli otto giocatori a disposizione e ha recuperato Sensi e Acerbi che tornano disponibili proprio per il derby così importante e c'è già questo grande dubbio di cui abbiamo parlato anche nelle ultime occasioni Acerbi o De Vrij a comandare la difesa da centrale nel derby con Acerbi che li ha vinti tutti da quando è arrivato a Milano e invece un De Vrij che deve farsi ancora perdonare quei due gol di Giroud nel derby di due anni fa che capovolse poi la classifica e il discorso Scudetto De Vrij che ha cominciato penso come ai livelli di Conte dello Scudetto ancora il suo primo anno post Lazio in nero azzurro stramotivato sul pezzo che è tornato a essere una garanzia da quando ha deciso di firmare il rinnovo con l'Inter di rimanere in nero azzurro squadra che vince non si cambia abbiamo fatto anche un sondaggio in live ieri sera tutti bene o male d'accordo però ci possono essere anche delle variabili da analizzare soprattutto da vedere in che condizioni torneranno i giocatori dalle loro nazionali i primi dovrebbero essere proprio gli olandesi poi i francesi italiani e ultimi sudamericani con Lautaro che ha giocato titolare l'ultima partita 77 minuti in campo al fianco di Messi senza riuscire a segnare una difficile sfida con l'Equador poi risolta da una punizione magistrale del DS di Lionel Messi un Lautaro che però giocherà in Bolivia a 3600 metri di altitudine quindi si spera che torni ancora più carico dall'aver riconquistato anche la titolarità della nazionale campione del mondo dopo le difficoltà fisiche i problemi alla caviglia durante il mondiale che ne avevano condizionato l'impiego e anche le risposte sul campo adesso può tornare mercoledì sera per ricominciare ad allenarsi giovedì e venerdì e poi la partita più attesa in cui lui ha segnato otto gol e che vuole naturalmente giocare a tutti i costi così come Olivier Giroud gli esami dopo il problema alla caviglia hanno non hanno evidenziato nessuna lesione quindi ci sarà salterà l'amichevole con la Germania in cui invece ci sarà un Marcos Turam ancora più carico ancora più diciamo sbloccato dopo aver trovato il suo primo gol con l'Inter gli ha portato molto bene è riuscito addirittura a segnare dopo undici gare la sua prima rete con la nazionale francese con Didier Deschamps che gli ha fatto i complimenti per questo suo primo gol importante ma anche gli ha tirato un po' le orecchie perché poteva benissimo segnarne altri ecco qui sta anche quella che dovrà essere la missione di Inzaghi trasformare Turam in un bomber con alta percentuale realizzativa visto come si trova sempre anche al momento giusto al posto giusto così come ha fatto più volte durante la gara con la Fiorentina adesso che piano piano si sta inserendo in squadra e vi ho sempre detto a differenza di tutti quelli che per delle amichevoli così un po' sotto tono ma di preparazione con le gambe pesanti ingolfate vi avevo detto che si sarebbe piano piano ritagliato il suo spazio che si stava inserendo in punta di piedi con grandissimo rispetto molto al servizio della squadra e di Lautaro Martinez adesso è arrivato il primo gol assist poi per Lautaro a conferma insomma della sua anche disposizione totale disponibilità verso la squadra e poi anche un rigore procurato che ha poi permesso a Ciala di segnare la sua prima rete del campionato buone notizie quindi per quanto riguarda gli infortunati per quanto riguarda un Turam stracarico che è pronto a a tornare a dare veramente il suo contributo contro un Milan che sembrava l'avesse già acquistato poi sono cambiate tante cose poi l'Inter ha capito che era una pista ancora percorribile forse già si era intuito che ci fossero dei problemi sul fronte Lukaku non lo sapremo mai però ausilio che tesseva le fila da due anni fa da quando aveva deciso di prendere Turam al posto proprio del primo Lukaku in fuga verso Londra poi saltò tutto per l'infortunio al ginocchio e si andò su correa operazione alla fine che purtroppo si è rivelata sbagliata e non ha dato i suoi i suoi frutti bisogna adesso vedere come sta Alexis Sanchez perché qui in molti sono preoccupati è un terreno abbastanza diciamo delicato perché si va a invadere la privacy del giocatore la salute non è considerato pronto per giocare contro per giocare con il Cile dovrebbe saltare anche la sfida contro la Colombia di Quadrado dal Cile fanno sapere ne ha parlato anche il commissario tecnico Berrisso che ci sono una serie di problemi su cui investigare e su cui stanno facendo esami approfonditi è venuto fuori questa possibile problema di anemia con il livello di emogolina nel sangue del calciatore che sarebbe più basso del previsto e che quindi momentaneamente bisognerebbe risolvere questa situazione però tutto abbiamo detto molto delicato da salvaguardare la salute del giocatore in primis aspettiamo anche qui comunicazione ufficiali aspettiamo nuove verifiche e controlli da parte dello staff medico del dottor Volpi e che si sappia poi la condizione sicuramente se ci fossero dei problemi gravi non sarebbe andato fino in Cile non avrebbe risposto alla convocazione tutto da aspettare e vedere poi quelle che saranno le comunicazioni ufficiali gli esiti e quant'altro cose che a noi non competono naturalmente e poi c'è una qualcosa di molto importante da salvaguardare come la privacy e la salute del giocatore che vengono prima di ogni cosa di ogni notizia di ogni scoop o qualsivoglia come lo si voglia chiamare quindi attendiamo cerchiamo di capire intanto quando rientrerà se potrà allenarsi coi compagni se potrà essere a disposizione per il derby se c'è un altro tipo di problematica chiaramente ne parlerà anche venerdì prossimo in conferenza stampa Simone Inzaghi intanto arrivano conferme sulla notizia che vi abbiamo dato come possibilità ieri su Thiago Jalò difensore dell'Il che sta ancora recuperando dall'infortunio dalla rottura del legamento crociato conferme che è sempre stato un obiettivo l'avevamo detto che anche l'Inter aveva provato a cercare di acquistarlo aveva praticamente già definito l'operazione prima che si facesse male era l'alternativa la prima alternativa in caso di cessione di di screener che poi abbiamo visto non c'è stata e se n'è andato a zero il primo di luglio Thiago Jalò classe 2000 portoghese un metro e novanta ma molto rapido veloce un passaggio un passato anche nella primavera del Milan poi l'esplosione a Lille che gli ha permesso di guadagnarsi anche la nazionale portoghese questo infortunio però molto grave da cui ancora non ha recuperato gli mancano minuti ufficiali può essere una bella alternativa per il reparto arretrato futuribile può giocare sia a destra che a sinistra al bisogno può fare anche il terzino proprio per la sua corsa per la sua agilità nonostante un'altezza importante è un elemento che sicuramente piace da tempo non solo ausilio ma anche a Simone Inzaghi che può essere per il futuro un'alternativa importante soprattutto se non dovesse rinnovare il suo contratto di scadenza giugno e si riuscisse a prendere a zero l'abbiamo detto sarebbe un vero e proprio colpaccio perché parliamo comunque di un giocatore con una valutazione adesso di una ventina di milioni ma solo perché è in scadenza e riduce da questo infortunio e può crescere ulteriormente diventare una risorsa per chi lo andrà ad acquistare un Inter che qualcuno dice dove lo metti però al posto di chi bisogna capire tanto ci sono diversi elementi con una carta d'identità importante vedremo come sarà questa stagione le risposte che verranno date e poi bene o male però bisogna sempre pensare al futuro e a quello che si può costruire con elementi come Thiago Jalò che alla fine è un coetaneo di Bissek anche lui che ha approfittato di questa sosta per le nazionali per rimanere ad appiano inserirsi ulteriormente meglio dentro il gioco di Inzaghi dentro l'Inter e anche lui potrà essere una risorsa importante come Jalò anche Bissek può giocare sia a destra che a sinistra l'abbiamo visto nelle amichevoli proprio per la mancanza di un'alternativa ad Armian prenderne spesso il suo posto però in realtà adesso con l'arrivo di Pavard è tornato a sinistra dove ha giocato sempre ultimamente dove anche la possibilità poi di andare alla conclusione sul portandosi il pallone sul destro come abbiamo visto in qualche filmato dell'anno scorso con gol importanti Inter che viene considerata sempre una favorita o la più favorita tra le pretendenti al titolo devo dire che come sempre c'è tanta pressione sui nerazzurri bisogna però gestirla al meglio sottolineerei un'intervista e le parole di Javier Zanetti a Marca sulla operazione Lautaro Martinez proprio Javier ne ha parlato Lautaro ha detto l'ho cercato io in prima persona mi inorgoglisce che sia capitano dell'Inter e provi le mie stesse sensazioni identificandosi con orgoglio nel club trasmette tutto ciò che significa l'interismo si migliora di anno in anno e potrà crescere tantissimo sono l'idea che un club come l'Inter debba avere grandi giocatori e che sia altrettanto normale ricevere delle offerte a quel punto decide il giocatore se diventare una bandiera o partire mi sembra che come abbiamo detto per Varella anche Lautaro Martinez nonostante quell'offerta stellare dall'Arabia Saudita abbia declinato e preferito il ruolo di capitano di leader quanto mai del progetto nero-azzurro come abbiamo visto 5 gol in 3 partite sono un inizio pazzesco sperando che riesca anche a superare quelle solite pause che spesso gli si gli fanno perdere uno un mese e mezzo due e un po' di tranquillità può fare un salto ulteriore sull'Euroderby ha parlato anche di quello Zanetti ha detto che è una gara molto particolare una situazione unica una partita che tutti vogliono giocare è sentita tantissimo in tutta la città quando ho dovuto perdere nel 2003 è stata molto dura perché abbiamo pareggiato entrambe le partite e siamo stati esclusi per i gol in trasferta l'anno scorso è stato diverso l'Inter ha vinto entrambe le partite penso che sia arrivata meritatamente alla finale di Champions una finale che Aver vuole raggiungere di nuovo anche se non sarà facile però bisogna riprovarci ha detto e poi con Simonin Zaghi che sta facendo un ottimo lavoro bisogna provare a continuare a migliorare e cercare di vincere la seconda stella con grande serenità personalità ha continuato in Zaghi ad avere fiducia in quello che faceva e questo gli è stato riconosciuto dandogli quella continuità che si è guadagnato e che merita con questo rinnovo di contratto di un anno con opzione per un'altra stagione che gli permetterà di ulteriormente andare avanti nel progetto di far crescere la sua creatura e speriamo di arricchire la sua bacheca e quella di via della liberazione dunque un Inter che continua a crescere a migliorare a migliorare i conti e poi si vedrà quello che accadrà anche dal punto di vista societario un po' un po' di vostri messaggi come sempre l'angolo della posta delle vostre considerazioni aspettando nuovi temi di discussione come sempre ringraziando tutti quelli sempre presenti che sostengono sempre il canale e il nostro progetto di comunicazione che poi si riflette nel nostro sito www.marcoparzaghi.com che cerchiamo di far crescere far diventare ogni giorno sempre più importante con tanti ragazzi che mettono tutta la loro passione se ci fosse qualcuno altrettanto motivato ci scriva Stitch con 14 like l'infortunio di Giroud sembra quel classico infortunio fatto solo per riposare per il derby no in realtà è un infortunio reale ma non credo che gli precluda la possibilità di giocare titolo proposto Inter allarme giallo con DJ con il nuovo obiettivo per la difesa soprattutto se si riuscirà a prendere a zero Francesco Perna la storia insegna che il derby è partita pazza a prescindere dai valori in campo dobbiamo fare il possibile per vincerlo ma ancora più importante sarà mantenere consapevolezza e convinzione anche se dovesse andare male cosa che non ci auguriamo però come vi dico sempre piedi per terra non farsi illudere da un inizio comunque ottimo perché le difficoltà sono sempre dietro l'angolo continuare a lavorare con questo spirito questa mentalità ferie più che meritate grazie Marilena vota Mixable il record di derby vinti consecutivi lo detiene il Milan con sei vittorie di fila nel 1913 e quindi lo vorrebbe il nostro amico eguagliare e magari anche battere Mario avendo fatto sport ad alto livello dice non mi piace godere degli infortuni degli altri bene però che Giroud non potrà allenarsi al meglio è un piccolo vantaggio sperando che poi possa scendere in campo Michele grazie per essere sempre con noi anche a scapito delle tue ferie sei straordinario troppo gentile col Milan confermerai gli elementi più anziani e collaudati poi i nuovi a partita in corso come giusto che sia per dar spazio a più persone possibili Maurigno buone vacanze buongiorno a tutti i nostri nelle loro nazionali si stanno facendo onore merito di Simone e anche nella rete di Turam c'è un po' di merito se prima non era mai riuscito in dieci partite a fare gol segno che si è fatto un lavoro importante che dal punto di vista realizzativo per farlo crescere Francesco Giaconelli sensi a cervi sono totalmente recuperati manca solo Sanchez che deve trovare la miglior condizione ottime prestazioni dei nostri Dunfries 3 assist con la sua Olanda Turam che ha segnato il suo primo gol con la Francia adesso incrociamo le dita e speriamo soprattutto in belle belle prestazioni degli italiani con la nuova nazionale di Spalletti per una partita così importante è meglio partire dalle certezze Giuseppe Barresi unico dubbio a cervi perché se sta bene un pilastro ottime sensazioni li vedo più sicuri e consapevoli sono impaziente sette nanetti sono contento per le prestazioni di Dunfries e Turam sempre criticati gratuitamente alla fine ciò che conta è la risposta del campo lo diciamo sempre spesso però è la realtà poche settimane fa è finito il mercato e già ricominciano i nomi per il prossimo anno qualsiasi cosa si faccia mi fido pienamente dei dirigenti hanno dimostrato ampiamente che in quanta idee e soluzioni non hanno rivali soprattutto pensando alla perenne crisi finanziaria che ci accompagna negli ultimi anni lasciamo lavorare Marotta ausilio mister no mister mm magna la gente parla di progettualità e vede l'Inter come un fallimento quando negli ultimi cinque anni siamo primi per punti vittorie gol fatti abbiamo subito meno gol abbiamo perso meno partite tutte le squadre che sono fisse in serie abbiamo la differenza rete più alta torfei vinti negli ultimi cinque anni Inter 5 Juve 5 Lazio 2 Milan 1 e Napoli 1 anche se queste ultime hanno vinto poi uno scudetto nelle ultime due stagioni Daniel Terraneo per una partita fondamentale come il derby schiererei gli stessi undici poi più avanti potranno iniziare a trovare più spazio e titolarità i vari acerbi Pavar Frattesi e Quadrado concludo aggiungendo una mia opinione su Giallò mi piace molto l'unico dubbio è come tornerà dalla rottura del crociato infatti di questo ci si vuole sincerare Martina buona giornata riposati te lo meriti e torna più in forma che mai abbiamo bisogno di te sono sempre qua ragazzi Germanico fiducia ad Evrai lo merita per come sta giocando per non fargli perdere stima e fiducia non cambierai la formazione tipo nel derby al massimo spazia i cambi il bel giocattolo non bisogna romperlo deve rimanere tale Gorich invece la pensa diversamente dice se a Cerby ok meglio lui però questo lo deve vedere il mister poi inizierei con Dumfries e il resto della squadra le prime tre partite mi preparerai sicuramente un piano B importante da attuare dal sessantesimo in poi Giuseppe Delfino sono contento per il primo gol con la Francia di Turam e per Dumfries credo che la sua crescita ci sia lo zampino di Nzaghi mi spiace solo per il palo di Lautaro con l'Argentina comunque sempre in palla 5 gole in tre partite sempre piedi per terra Massimo Cattaneo con la consapevolezza che la seconda stella deve essere il nostro obiettivo sono fiducioso Tony H vediamo un po' di abbonati comunque andrà al derby il resto è la mia idea l'Inter la scuola più forte del campionato salutiamo Rudy non gli abbiamo fatto gli auguri in tempo li facciamo oggi come dice il grande Beppe si sostituisce più facilmente un difensore che è un attaccante Giuseppe Baldelli poi vediamo ancora Giuseppe Capogna ci saluta così come Anthony e tutti voi pronti come sempre col tè caldo più famoso di Youtube allora un po' di rassegna stampa chiaramente in copertina c'è Spalletti la Nazionale attesa a un inizio di una nuova era sperando che che riescano a difendere al meglio il titolo di campioni d'Europa vediamo Italia scatta e c'è anche qui un bel barella simbolo della nuova Italia di Spalletti più che mai il CT non può più sbagliare la squadra è forte voglio un bel calcio per quanto riguarda Luciano Spalletti poi attacco al derby Turam lanciato Giroud corsa contro il tempo per migliorare andiamo all'interno abbiamo già detto tre nerazzurri dal primo minuto in Macedonia per il riscatto immobile capitano le parole di Spalletti organizzati e fantasiosi possiamo fare un bel calcio attenzione però alla trappola Macedonia derby prendiamo già la mira Turam l'italiano con i consigli di papà e l'Inter ha un piano per farlo esplodere dopo essersi sbloccato Marcus è al decollo si è ambientato subito grazie al padre Liliane Inzaghi ora vuole avvicinarla alla porta problema di anemia secondo i media cileni Sanchez non ha giocato contro l'Uruguay in base a quanto arriva da Sud America alla base ci sarebbero livelli di emoglobina diversi dalla norma il club di Zang non ha ricevuto comunicazioni dalla nazionale di Alexis mentre a parlare era stato lo stesso CT Berrisso se è qui perché è disponibile ma stiamo valutando una condizione ci sono cose su cui è bene vederci chiaro Sanchez potrebbe comunque tornare a disposizione per la sfida di martedì alla Colombia non sono così sicuro di questa cosa Marcus Turam è un francese d'Italia un italiano di Francia ragazzone nato a Parma è cresciuto a Parigi da padre campione del mondo ha due identità felici che si mescolano adesso che ha fatto saltare il tappo si inseria che con i ble il centroavanti nero-azzurro inizia ad esaltare i suoi due mondi l'Inter e la Francia Corriere dello Sport con copertina anche qui dedicata all'Italia come giusto che sia sempre azzurro un bel un bello spallettone con Immobile poi Politano e Pellegrini la svolta nazionale e vediamo di parlarne bene anche questa sera buonasera